Allora, una partita bellissima come ci si aspettava, molto faticosa, però voi avete avuto qualcosa in più Molto faticosa, spero sia stato un bello spettacolo da fuori perché io dico sempre, sì, è bello venire a vedere la Palavolo Ed è quello che mi aspetto sempre, che la gente fuori si diverta Noi abbiamo dato quel qualcosa in più nel senso che abbiamo sbagliato poco, cosa che magari abbiamo fatto nei set che abbiamo perso Comunque abbiamo ottenuto un grandissimo livello da entrambe le parti Voi avete tantissime alternative, tantissime soluzioni, questo fin da inizio stagione, però adesso state trovando anche la continuità Sì, si trova la continuità tutti assieme anche perché si gioca tantissimo, si gioca ogni due giorni, quindi si vede, c'è sempre bisogno di tutti in ogni occasione, questa è la squadra Tu come ti senti a livello personale? Sei tornata alla grande finalmente, insomma diciamo Sto bene, sto bene, la sfortuna, no non voglio dire sfortuna, io dico sempre che alla fine se doveva succedere, doveva succedere E quindi adesso colgo tutto il bello che arriva Grazie con te Grazie